Valentina Vignali di nuovo fidanzata dopo Stefano Laudoni? Ultime parole Valentina Vignali di nuovo innamorata, ha dimenticato Stefano Laudoni? Parla la giocatrice di basket. La fine della storia d'amore tra Valentina Vignali e Stefano Laudoni è stata come un fulmine a Censereno, soprattutto per la diretta interessata. Negli ultimi giorni, però, si è ricominciato a parlare di un presunto ritorno di fiamma, o almeno così sembrerebbe da parte di lui. Lo sportivo ha già messo fine alla sua super criticata storia d'amore con Francesca Brambilla, aprendo una presunta conoscenza con la modella e influencer Jennifer. . In ogni caso, il cuore di Stefano pare battere ancora e solo per la Vignali. Lui continua a mettere like ad alcuni commenti in cui i suoi followers gli consigliano di riprendersi la bellissima Valentina e di non stare a perdere più tempo. . Valentina Vignali non vuole tornare con Stefano Laudoni . . E mentre Stefano Laudoni continua a cliccare mi piace a svariati commenti che parlano solo di come sarebbe bello vederlo tornare insieme alla Vignali, quest'ultima ha voltato decisamente pagina. . . Con un commento Instagram lasciato sotto il profilo di una fanpage, la nota giocatrice di basket ha cercato di mettere in chiaro la sua attuale situazione sentimentale, confermando anche il suo nuovo flirt amoroso. . . Proprio il 28 dicembre 2017, Valentina ha pubblicato uno scatto insieme ad un altro giocatore di bucket, Scott. . In ogni caso, non è ancora stato chiarito il rapporto che lega i due. . Anche se in molti sono convinti che ci sia del tenero e che insieme formerebbero una fantastica coppia. . . Valentina Vignali si è fidanzata? La rivelazione social. . Valentina ha chiarito una volta per tutta la sua posizione nei confronti di Stefano. . Sto vivendo e pensando ad un'altra persona. . . . Smettete di taggarmi perché non mi interessa. . . . . . . . .